Ecco, per cui voglio evidenziare il resoconto di questi tre video appena fatti e pubblicati come quell'albero che è l'intelligenza. Poi man mano che sale, sale, si apre in tre rami principali che sono appunto logica, coerenza e capacità di analisi. Quindi questi tre elementi permettono all'intelligenza di essere forte e capace per capire e arrivare quasi ovunque. Ecco, soprattutto a conoscere le persone che ci stanno intorno che spesso non sono quello che sembrano. Ecco, ciò che stamattina dissi nel primo video, l'intelligenza è, riguarda proprio questo. La luce del sole, il nostro creatore, l'essere supremo astrale, colui che comunque sia è la suprema intelligenza infinita, ci ha dato la sua particella o il suo soffio vitale, il suo essere, considerata anima dentro di noi, che ha come pilastro principale o essenza principale l'intelligenza che ci porta a conoscere ciò che è intorno oltre a quello che non vediamo attraverso l'analisi, attraverso l'immaginazione analitica, ma necessaria è sempre la componente dell'intelligenza, coerenza, logica e capacità di analizzare attentamente e tranquillamente ogni cosa. Allora sarà un sole dentro di noi, quell'intelligenza che ci permette di evolvere.